Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare una sfida segreta della carriera in Fortnite con l'aggiornamento odierno della stagione 3. La sfida è chiamata dal brodo primordiale. Tutto quello che dovete fare è raggiungere la nuova isola che è emersa dalle acque in prossimità dello squalo e interagire con le creature gelatinose che sono presenti sull'isola regalandogli delle unità di legno. Ora non ricordo bene quante, se non erro 100, potete farla in qualsiasi modalità. Una volta che avete completato la sfida, automaticamente riceverete il badge nella carriera e ovviamente i punti esperienza. Quindi ci troviamo qui, nella parte più alta della mappa. Raggiungete queste creature gelatinose e interagite con le stesse premendo l'apposito tasto. In questo modo darete l'oro della legna. Ora io l'ho già fatta come sfida, quindi non me la fa rifare, però una volta che vi avvicinate a queste creature dovete premere l'apposito pulsante e la sfida è completata.